Al lavoro per il terzo decreto economico per affronteggiare l'emergenza coronavirus dopo quello iniziale, quello di venerdì scorso, sarebbe in arrivo un nuovo provvedimento con finanza aggiuntiva a sostegno dei settori maggiormente colpiti. Ma per procedere serve l'autorizzazione del Parlamento per ampliare il deficit per 3,6 miliardi. Il Governo sarebbe pronto a chiederlo in accordo con le autorità europee. Si tratterebbe per il Premier Conte di un intervento articolato per far ripartire l'economia attraverso un'accelerazione della spesa per investimenti e una poderosa opera di semplificazione. Da Bruxelles arrivano segnali positivi. In casi eccezionali, come questo, la flessibilità è prevista e regolata, ma non c'è solo la flessibilità, si lavora per condividere una risposta coordinata a livello europeo. Così il commissario economico Gentiloni, il cui posto nel Parlamento italiano lasciato libero dopo la sua nomina europea, è stato occupato dal Ministro dell'Economia Gualtieri che ha vinto le elezioni suppletive nel Collegio di Roma 1 con il 62% dei consensi, ma l'affluenza è stata del 17%. Le opposizioni invece incalzano e chiedono ancora più coraggio per affrontare l'emergenza. Per Salvini serve un intervento straordinario da 20 miliardi di euro, mentre Berlusconi rilancia l'idea di un nuovo piano Marshall per tutta l'Europa.